Ragazzuoli, mega notizia per voi, ho bisogno del vostro aiuto. In questo momento sto collaborando con Epic Games, in quanto hanno organizzato un evento molto importante, divertente, ma allo stesso tempo competitivo. E ovviamente ragazzi ve lo spiego nel più breve tempo possibile. Fondamentalmente ci sono quattro team per nazione, quindi ci sono quattro team italiani, quattro team tedeschi, e l'obiettivo è quello di sfidare appunto questi team e ovviamente ci sarà solamente un team vincitore. Chi vincerà, il team leader andrà a vincere un piccone creato a mano direttamente da Fortnite, e ogni partecipante che appunto ha partecipato nel team di quel vincitore, di quel team vincitore, vinceranno 500 V-Buck per ogni singola persona. Per partecipare ragazzi trovate il link qui sotto in descrizione che vi porterà appunto su questo sito, che vedete qui sullo schermo in questo momento. L'unica cosa che dovete fare è cliccare su partecipa. Qui vi porterà su una pagina web dove ci sono tanti creator che appunto fanno questo evento e ovviamente il vostro obiettivo è quello di cosa fate? Non supportate il mio team? Non venite a fare parte del mio team? Ovviamente sì ragazzi, perché l'obiettivo è quello di vincere. Cliccate su partecipa, di fianco al mio nome, e il gioco sarà fatto. L'unica cosa ragazzi che dovete fare è quella di giocare con i vostri amici, vincere le partite, fare tante decisioni in game. L'importante è giocare e nerdare. Quindi ragazzi, cerchiamo di vincere questa sfida perché davvero ci conto tantissimo. Quindi ragazzi, link in descrizione. Cari ragazzoli, benvenuti tutti quanti su questo nuovissimo video. Oggi ragazzi un video che è veramente diverso dal solito, perché è successo un qualcosa di veramente incredibile. Come avete letto sicuramente dalla miniatura e anche dal titolo di questo video, abbiamo vinto 1000 dollari al torneo organizzato da Epic Games per Checco Bomba. Ragazzi, è stato un torneo veramente allucinante e abbiamo vinto appunto questi 1000 dollari proprio nell'ultima partita. Eravamo al quinto game, quindi l'ultimo. Ragazzi, ho fatto veramente un clutch, credetemi, pazzesco. E poi alla fine sono arrivata seconda da sola perché il mio partner appunto era morto. E ho vinto ragazzi 1000 dollari. Abbiamo vinto 1000 dollari quindi da dividere in due. Ed è successo veramente l'impensabile. Prima ancora di passare al video ragazzi, vi invito a lasciare un bel mi piace a questo video per supportarmi. Di seguirmi su Instagram e su tutti quanti i social per rimanere sempre in contatto con me. E ovviamente ragazzi, se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite, è possibile farlo andando appunto nell'item shop. inserire il codice creatore, curato, miss, accettare e il gioco sarà fatto. Detto questo ragazzi, godetevi questo video perché è davvero, davvero assurdo. Rimango un po' altina giusto per spottare io. Ma proprio di poco. Sarebbe bella avere a meno un game le case libere comunque, ah mamma mia. Adesso non ce l'abbiamo perché vanno quattro alle isole, due lì. Però io non vedo nessuno attualmente. Mi è successo più di una volta che non li devo cercare. Ok, le case sembrano veramente libere, quindi devi andare. Luttiamo qua e andiamocene subito alle case. Sì, sì. Non vedo proprio nessuno. E c'ho la tetanopia, quindi c***o rivedo. Shieldini? Ma se te non è qua, dobbiamo che non te li rende rizzo. Io ho un mini più per te. Ah no, anche i mini, anche i mini per te. Ok. Allora facciamo così. Un altro big shield. Perché c'è anche uno sparapenda che non vuole lasciare, sai? Se riusciamo. Lo posso portare, lo posso portare io. Dov'è? Ce l'ho io con te. Cioè ce l'ho io. Ok. Prendi il rampino. Allora. Io ne lo sparapenda. Ok, ora lo prendo. Però non posso portare le nade così. Vabbè, fa niente. Eh, posso io. Ok. Cioè appena trovo un pompa. Hai trovato un pompa sopra? Sì, ce l'ho fatto verde. In più? Sì. Ok, allora devo buttare le nade per forza. Ok, buttale, buttale. Perché l'SMG Blue sinceramente mi ispira per... Non ci servono quasi mai. Anche se io sei nade, le lascio. Sì, sì. Ok, dai. Più l'altro l'SMG Blue... Non abbiamo avuto la libertà di andare in giro per fare le nade. No, no, ma infatti. Sì, e poi l'SMG Blue mi piace per la pressure, per quello. Ok. Andiamo... Giriamo tipo insieme. Sì, sì, no, no, per forza. Insieme attaccati proprio. Full, triplo full. GG, io quasi full. Manca davvero poco. Non è un problema. Quelle case ci mancano? Eh, proprio le prime. Le prime due. Allora vado alla rossa e tua e alla blu. Ok. Ok, all'altro destra, all'altro destra. Andi. 3, 2, 1, vai. 31. Dobbiamo andare full pazzia? Lo so, lo so. Allora non possiamo tirarci indietro, eh. 31 blu. H62, ho fatto 100 blu. Ok, Marti, ce l'hai fianco, Marti. Tranquillo, tranquillo, tranquillo. Sono l'UCI. E' una uscita con 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 l'UCI. Bravissima. Let's go. Ah, erano loro. Oh, Maria, salta, vergine, il tattico blu. Ti prego, signore. Altri mini. Io ne ho 5. Ok, io ne ho 5 pure io. Altri mini ancora. Ok, perfetto, sono full. 120. Dobbiamo stare attenti qua. Dobbiamo stare attenti qua. Ok. Sono proprio dritto per dritto. Il surge pure non ce ne frega più un c***o perché abbiamo fatto una caterva di danni. Sì, sì. Quindi pensiamo solo al land e basta. Dov'è che ci possiamo mettere anche qua? Aspettare. Tanto più ruotiamo all 8 meglio è. Ok, quelli lì? No, 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 te l'ho visto, te l'ho visto, attento. Su dove? No, non mi hanno visto, mi sa. No, 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 si è girato verso me con la R. In me box non voglio stare nel bush. A me non ho metto note con la stream, capito? Infatti ci sto. Eh, però non l'hai detto. Vabbè, tanto. Non ti per. Tanto, tra 20 secondi ce ne andiamo. Sì, no, infatti. Mamma mia. Era lì, ma cosa stavano facendo lì? Non c'era nessuno. Eh, perché volevano il free shield da noi. No, ovvio, adesso le faccio pure la clip. Dov'è? Ok, dovevano andare a Weepin. Che posto orribile. Invece ci sta come rotation, non è malissimo per noi. No, no, rotazione no, ci sta. È il posto che odio. Hai uno a sinistra. Sì, non mi ha saputo però. Non gli ho sparato. È intelligente, intelligente. Speriamo. Sì, 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 no, ho capito. È intelligente, intelligente. Però occhio, non dargli mai la schiena, guardati sempre. No, no, no. Tranquillo che... Non lo faccio mai connessione. Io la prendo. Ok. Tattico blu p***o, crede per me. Anche il tattico, però non so se... C'è un bilanotto che devi dare, sai. Ah, dici, ok, ho capito. Ho sbagliato io. Non ho capito. No, nel senso, ce l'avevo verde e l'ho trovato blu, capito? Sì, 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 ok. Sì, sì, sì. Io non gli voglio rompere le p***e. Cioè, voglio fargli capire che... No, vai tra, vai tra, frate. Voglio fargli capire che non voglio fare nulla di strada. Perché lui, poveretto, lo sa. Cioè, lui sa con chi ha a che fare, capito? Lo sa benissimo con chi sta giocando contro. Ma è nel bush? Attento, Andy. Attento, Andy. No, no, no. Ah, no, sono a destra, sono a destra, guarda. Ok. Mi unisco a te perché siamo troppo a destra? Sì. Attento anche a sto bush che mi triggera. Mi ha nittata. Bravi. Non la fai niente. Cioè, avanza 40, qua. Mi fa comodo. Ok. Non abbiamo big, vero o no? In teoria no. No, io ho 6 mini sparabende. Ok, 6 mini e 3 flopper, dai. Noi per il tuo dobbiamo aspettare quelli a fianco a me a 74. Sennò loro danno fastidio. Ah, c'è un team tuolato a sinistra? Sì, diritto. Oh, li stanno ne dando a 2,55. Mi sa che ci schiaffano. L'ha nittata. Ok. Aspettiamo un secondo io a ruotare. Aspettiamo questi. Sì, sì, sì. Io controllo a destra, intanto. Sì. Ok, questi. No, no, no. Ok, ok, ok. Sì, sì, sì. Devo ruotarlo, per forza. Sto riscendendo, sto riscendendo. Vabbè, sono contento. Tranquillo. Ci sono, in teoria. Siamo solo con le si, però, a una scala, mi sa. No, ho messo un muro, ho messo un muro. Ok. Eh, a voglia, sorge, guarda. Non ce ne frega, boopo. Non aprire niente, non aprire nessun muro. No, 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 no. Infatti siamo cinfermi e via. Sì, sì, io sono immobile nel coro. Le kill, tanto non ce ne frega niente. Siamo messi veramente bene. Ma poi è finito già. Per praticamente a venire. Sì, doveva morire tipo uno. Cosa fa questo? Non devono per c***i, però. Ah no, le RPG sotto, eh. Ok. Ah, rompono il c***o questi davanti, vabbè. Sì, sì, vengono benissimo. C'è un team che è rotto da est, Martin. Eh, però occhio. Sì, no, 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 no. No, tanto, kill e non ce ne frega un c***o. Infatti, ma poi siamo full, al massimo tu. Mi vedono chi? Oh, c***o, l'ho. Hai risalito. Non ce ne frega nulla delle kill, stiamo c***o. No, no, no. Non sento neanche gli spari. Lo so, lo so, lo so, lo so, lo so. Nei da no? Mamma mia, per fortuna. Ok, mi hanno distrutto un aldor, mi hanno fatto un favore enorme. Buono, buono, buono. Ok, mi hanno distrutto tutti gli alberi, grazie. Tutto dietro? Ok. Tieni un po' di mazza. Tieni qua. Giù, scena di mazzone. Ok. C'è uno sotto di te. Marti, oksf, non è il mio. Vieni. C'è uno, 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 c'è uno. Tè, 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 tè. Ok. Paga tutto. Tieni un po' di metallo. Ce l'albero, Marti. Ok, l'hanno rosto. Vieni. Vai. Ok Non è tuo Non è tuo facciamo come arti Sono giù Vabbè, vabbè, seguimi, seguimi Vai Chiudo dietro Ok 200 legna Geni Devi cercare di arturare, Marti Passo? Abro Non mi spara Non c'è nulla che possa arturare, niente Vieni Ok, vieni Vieni qua È un HP È un HP Ai un HP Giocati la vita, giocati la vita con un flopper, Marti Go Giocati la vita con un flopper Giocati con un flopper C'è anche le spara bende C'è flopper, flopper Marti davanti a te Altri flopper dietro in te Dove? Ok Non mi riprenda È bugato l'archiona Ok presi Non mi sa che non ti torna indietro Non mi riprenda Non mi riprenda Non mi riprenda Non mi riprenda Top 3 Se mi fai la top 2 te lo giuro Non posso farlo perchè sei una femmina Però manderei il video in mutante che balli Mi sa che ciò fa la top 2 Siiii Scoro Andy La s***** Vai c***** Dai Andy C***** Mamma mia Choro Igigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigang Andai in giro c'erano floppers dovunque Bà